mangiata come è? guarda come sta controlando andiamo nel pagliere fuori sta vincendo vincendo come usa la menta o sta vincendo ah beh pensa di capare guardia cortegge guardia corteggia vedo che succede ok Poi lo vediamo dopo con un pulito, non potrei essere E se lo faccio un paluro così, poi lo metto Sta scendendo giù il fronte ora Guarda, è mezza sciarola perfetta È già quasi arrivato al sasso, sta scendendo, guarda Sta spingendo il fronte e quindi si muove tutta la sacca Guarda, non si vede più niente Da là non si vede più niente Non si vede più niente Guarda, io questo lato la telecamera che si è accendendo Ah, c'è una volta che c'è appena fumata Tra l'altro è stato scusato E questo è stato di là che è normale Quindi il fronte sta spingendo la sabbia fino a mare Inizio sempre Inizio sempre nella radio inizio Inizio sempre nella radio inizio Grazie a tutti Grazie a tutti